Giù ben ritrovati all'ippodromo del Mediterraneo per un altro pomeriggio al Galoppo con sei corse in palinsesto. Gli occhi puntati sulla terza, sulla condizionata abbinata al premio Northern Pride. Ci sono i soggetti di tre anni ed oltre chiamati a confrontarsi sul miglio della pista grande. A chiusura convegno, un handicap discendente aperto e interessante con la dotazione di 8.800 euro, il premio è Dono Razio. Ci sono i veloci 1.200 metri della pista sabbia da affrontare ancora per soggetti di tre anni ed oltre. Andiamo a presentare subito la prova di apertura, il premio Caponord si tratta di una vendere sui veloci 1.200 metri della pista sabbia e al via ci sono i giovanissimi soggetti di due anni. Prova sui 1.200 metri partiti. A parte il leggero ritardo Irochetz assume l'iniziativa Florpalida con all'interno Dinastidor, poi l'implacabile quindi Alca Rennesme e Alca Siffredi. A qualche lunghezza segue Irochetz. Florpalida chiede ottene strada ora a Dinastidor che si adegua in seconda posizione, terza risale Alca Rennesme, poi l'implacabile quindi Alca Siffredi. A seguire Irochetz. Cavalli lungo la piegata con Florpalida in vantaggio, al suo inseguimento si mantiene Dinastidor per linee interne, per linee esterne invece Alca Rennesme e quindi l'implacabile a largo. Cavalli ai 250 finali con Florpalida attaccata all'esterno da Alca Rennesme, all'interno Dinastidor, ancora più a centro pista, prova ad avanzare l'implacabile. Alca Rennesme è passata in vantaggio, quindi Dinastidor per linee interne allarga l'implacabile, Alca Rennesme vince su Dinastidor, poi l'implacabile. Vince quindi Alca Rennesme numero 1 dello schieramento con in sella mani esposito 7,96 la quota della scuderia, che para l'attacco interno di Dinastidor, poi l'implacabile. Assegno quindi Alca Rennesme su Dinastidor, numero 3, quindi Florpalida al terzo posto, successo quindi per Alca Rennesme su Dinastidor, poi a seguire Flor, poi l'implacabile. Complimenti a Mario Esposito che esordisce con questo bel successo. Meglio in sabbia, Alca Rennesme? Sicuramente ha reso qualcosa di più. Non mi è dispiaciuto oggi, la cavallo ha corso bene, quindi va bene. Complimenti. Grazie mille e grazie alla squadra. In pista adesso scenderanno i soggetti di tre anni ed oltre che saranno impegnati sugli onerosi 2.300 metri della pista grande. Il premio è Wheel Dancer, si tratta di una reclamare che ne vede 6 agli ordini dello starter. Partiti. Sono partiti i protagonisti della seconda di Siracusa per reclamare sui 2.300 metri con in vantaggio Morban Quiet per linee esterne avanza Patrick Best, quindi ancora a largo Puma De Rieu, quindi Puma De Rieu in vantaggio nei confronti di Morban Quiet, poi in terza posizione Patrick Best, quindi ora Zulu, Ottaviano Augusto e Lorenzo D'Arcadia. Cavalli schierati a fila indiana lungo la piegata di sinistra con in vantaggio Puma De Rieu, Puma De Rieu in vantaggio nei confronti di Morban Quiet, poi in terza posizione si mantiene Patrick Best, quindi ora Zulu, Ottaviano Augusto, ancora all'interno Lorenzo D'Arcadia. Queste le posizioni quando i cavalli affrontano l'addirittura opposta alle tribune con Puma De Rieu che ora lascia strada a Morban Quiet, che avanza lungo la corda, quindi in terza posizione si mantiene Patrick Best, a seguire Ora Zulu, Ottaviano Augusto e Lorenzo D'Arcadia. Gruppo ora riunito con all'esterno in vantaggio sempre Puma De Rieu nei confronti di Morban Quiet, poi Patrick Best, Ora Zulu, Ottaviano Augusto e Lorenzo D'Arcadia. Si va a completare la piegata di fondo, cavalli che entrano in retta d'arrivo con Puma De Rieu in vantaggio, quindi Morban Quiet, Patrick Best, per linee esterne si preparano all'affondo Ora Zulu e Ottaviano Augusto. Cavalli ai 350 finali con Puma De Rieu in corda, al suo esterno si presenta Patrick Best, quindi allargo Ottaviano Augusto, ancora Ora Zulu, Patrick Best passa in vantaggio, Patrick Best cerca di svincolarsi dal resto degli avversari, Patrick Best in piena spinta, vince Patrick Best, poi a seguire Lorenzo D'Arcadia, rientra Ottaviano Augusto, vince quindi Patrick Best numero 5, Patrick Best numero 5 dello schieramento, allunga i 250 finali Giovanni Formica e viene a vincere, viene a vincere quindi a sorpresa Patrick Best che paga 18,49 al totalizzatore nazionale, Patrick Best per i colori della signora Valentina Di Raimondo in salla Giovanni Formica, poi Lorenzo D'Arcadia rientra a Ottaviano Augusto per la miglior moneta, per la miglior piazza. A seguire Puma De Rieu, attendiamo l'ordine ufficiale e linea la regia. E con il team al completo di Patrick Best iniziamo a chiedere a Giovanni Formica che corso è stata. No, credo che la corso è andata bene durante il percorso, abbiamo corso di rimesso, lui non gradisce tanto questo tipo di terreno, però l'ha cercato di portarlo il più avanti possibile per dargli un po' di fiducia su questo tipo di terreno e poi in fondo è allungato e abbiamo vinto. Grazie, complimenti a Giovanni Formica, è emozionatissima e contenta la proprietaria, non bene la prima, decisamente meglio questa. Sì, era bellissima, anche la prima corsa mi è piaciuta, però era tanto tempo che non correva e oggi era proprio in forma, mi è piaciuta. Complimenti anche all'allenatore Vincenzo Caruso. Sì, a me la prima corsa mi era piaciuta parecchio, infatti lo dicevo anche a Nadia, ne parlavo con Giovanni, oggi però mi ha accorso sopra le possibilità che pensavo potesse avere, veramente. Andiamo adesso con il centrale del convegno di oggi con il premio Northern Pride per una condizionata che sul miglio della pista grande chiama al confronto sei soggetti di tre anni ed oltre. Partiti. Red Joe e Kilak Miffi Uken lottano per guadagnare il comando, ora è quest'ultimo che assume l'iniziativa, quindi in vantaggio Kilak Miffi Uken dopo i primi 150 metri di gara in seconda posizione si adegua quindi Red Joe, poi Laguna Drive a seguire Seltimar, Whip Storm con all'interno a contatto Samitri, cavalli che completano i primi 250 di gara con Kilak Miffi Uken in vantaggio, al suo esterno si propone Laguna Drive, quindi Red Joe, Seltimar, Whip Storm chiude il gruppetto a contatto Samitri. Si affronta la piegata di pista grande con in vantaggio sempre Kilak Miffi Uken nei confronti di Laguna Drive, poi Red Joe e Seltimar a seguire Whip Storm e Samitri. Si entra in dirittura di arrivo con Kilak Miffi Uken che ha una lunghezza di vantaggio nei confronti di Laguna Drive lungo la corda Red Joe, poi Seltimar a seguire Whip Storm e Samitri. Cavalli ai 350 finali con Kilak attaccato a fondo da Laguna Drive, a largo Seltimar, lungo la corda Red Joe, poi Samitri che recupera per linea interna, Laguna Drive è passata in vantaggio, ci prova ancora Kilak Miffi Uken all'interno Red Joe, vince Laguna Drive su Seltimar, quindi Kilak Miffi Uken a seguire Red Joe. Vince quindi Laguna Drive, Mario Esposito in sella per i colori dell'Alcatorre, al secondo Seltimar, quindi doppio di scuderia, al secondo Seltimar, al secondo posto Seltimar che recupera per linee esterne. Ancora con Mario Lino Esposito per parlare di questo bellissimo successo di Laguna Drive dopo il secondo posto dietro Raios de Sol, secondo me lo meritava. Beh, penso proprio di sì, un cavallo che comunque sia c'è una storia, è stato presentato al meglio, quindi era giusto che vincesse. Archiviata quindi la condizionata, procediamo con il premio Gift for Love, una a reclamare ancora sul miglio della pista grande, ci sono i soggetti di tre anni, questa volta al confronto e solo l'otto al via. Partiti. Primi metri con Smart Stepper che prova ad assumere l'iniziativa al suo interno. Mr. Ducky, quindi Leo Salsim e Shawar in quarta posizione, per linee esterne Alp Duets, ancora Royal Black, poi Sonic Temple, gli Affinity Orange, cavalli che vanno ad affrontare la piegata di pista grande, con in vantaggio sempre Smart Stepper nei confronti di Mr. Ducky, quindi Leo Salsim ed è Shawar, ancora Sonic Temple e Alp Duets, poi a qualche lunghezza Affinity Orange. Smart Stepper si mantiene sempre saldo leader quando si entra in dirittura d'arrivo per linee interne Mr. Ducky, per linee esterne Shawar, quindi Leo Salsim, nel cuore del gruppo Alp Duets, che ora trova un ottimo varco, a largo dello schieramento Sonic Temple, cavalli ai 400 conclusivi, con Smart Stepper attaccato da Leo Salsim, a largo prova di salire Sonic Temple, in anticipo su Royal Black, lungo la corda Alp Duets, Alp Duets all'interno, a largo Royal Black e duello tra Alp Duets e Royal Black, Alp Duets mantiene la meglio e vince su Royal Black, poi Leo Salsim vince quindi Alp Duets, Mario Esposito ancora una volta in evidenza, riesce a vincere con Alp Duets, respingendo l'attacco di Royal Black e Federico Bossa, ancora una volta duello tra Mario Esposito e Federico Bossa, vince di misura Alp Duets, poi Royal Black, Leo Salsim nell'ordine, attendiamo quindi l'ordine d'arrivo ufficiale, ancora una volta segno l'alcatore di Canicarau, questa volta il training del signor Fabio Broggi. Oggi Mario Esposito non è sbaglia una, anche con Alp Duets trovi il successo per una bellissima giornata. Stavo pensando che è a doppia interpretazione, oggi non è sbaglia una, vuol dire che le altre volte le avevo sbagliate tutte, no no no, bene oggi anche questo è andato secondo le aspettative, cavallo che comunque sia ce l'avevo già vinta una, come qualità rispetto a questi qui, valeva, quindi ha dato il suo. Proseguiamo con il premio Spegash, un handicap discendente, ci sono ancora 1600 metri da affrontare nella pista grande per soggetti di tre anni ed oltre, non partente, Roccaid rimangono in dieci al via. I cavalli sono in partenza, partiti. De Noble, Stam subito in avanti, per Varchi filtra anche Pasolungo, quindi Pasolungo si porta a condurre nei confronti di Buffer, Climatologist, Bridger Tape, Stam ancora ciclone da Clodia, seguire De Noble che scivola in settima posizione, ancora Brigant Akiram, poi Mela Stregata, andatura è buona con Pasolungo impegnato all'esterno da Bridger Tape, questi i primi. In terza posizione Buffer, in quarta prova a risalire per linee interne Stam, quindi King Alexander in terza corsia, ridosso ciclone da Clodia, Climatologist, De Noble, Mela Stregata, poi Brigant Akiram, cavalli che entrano in retta di arrivo, con Bridge or Tape, in leggero vantaggio, al suo interno si mantiene Pasolungo, poi a centropista Buffer, quindi De Noble che avanza al centro dello schieramento, passa di slancio, De Noble a 200 dal traguardo, De Noble si svincola dal resto della compagnia, prende il tempo a tutti, De Noble in piena spinta, De Noble il favorito a bersaglio, stravince, poi Stam recupera dalle retrovie, Stam e Brigant Akiram lottano per la miglior piazza. Successo indiscusso per De Noble, Carmelo Zappulla, lo chiama a maggiore impegno, 350 conclusivi, cambia azione in maniera repentina, De Noble, De Noble 3,62 la quota al totalizzatore nazionale, eccolo in primo piano, per i colori di Giuseppe Cannarella, che tra l'altro è anche l'allenatore, Pippo Cannarella, allenatore proprietario di De Noble, che vince questo premio Spegash, ha indicato sui 1600 metri, poi Stam e Brigant Akiram, in lotta serratissima sul palo, per la miglior piazza. Complimenti a Carmelo Zappulla, chiami De Noble a maggiore impegno, ai 350 finali, e ti dai il cuore. Sì, sì, proprio un maggior impegno no, il cavallo c'aveva un'ora in mano, andava da solo, l'ho tenuto coperto fino all'intersezione delle piste, ho tirato fuori, ho fatto una progressione, ha vinto abbastanza bene, poi mi sono girato, ero già avanti di molto. E a chiudere il convegno, il premio Dono Razio, handicap discendente sui veloci 1200 metri della pista sabbia, ci sono tre anni ed oltre al confronto, e sono in undici dopo la non partenza di Ledi Tari. Partiti. Isola d'Arcavia è velocissima, assume l'iniziativa nei confronti di Challenge, accepted per linea esterna, Leaureo Leolè, Monister Sicilia Legend, quindi alta quota in sesta posizione, poi Grey Arrov, quindi Principe di Malta, De Rociadora per linea interna e Apiero. cavalli che affrontano la piegata, con Isola d'Arcadia in corda, al suo esterno Leaureo Leolè, ancora a largo Sicilia Legend, poi Monister Challenge accepted, quindi Grey Arrov, cavalli addirittura con Leaureo Leolè in vantaggio, al suo esterno si propone Sicilian Legend, poi ancora Principe di Malta, De Rociadora per linea interna, prova ad impegnarsi Monister, quindi Grey Arrov, Leaureo Leolè è passata in buon vantaggio di forza, Leaureo Leolè ha due di vantaggio nei confronti di Sicilia Legend, Leaureo Leolè vince su Sicilia Legend, poi Grey Arrov risale dalle retrovie, che regola Monister per il terzo posto. vince quindi Leaureo Leolè numero 5 dello schieramento, vince Leaureo Leolè Gabriele Cannarella in sella, per i colori del signor Angelo Fontana, training di Sebastiano Fontana, 4,78 la quota di Leaureo Leolè, che vince questo handicap sui 1200 metri, poi il secondo posto è Sicilian Legend, quindi Grey Arrov e Monister vicini per la terza moneta. Sebastiano Fontana ci aveva detto in settimana che se in condizione Leaureo Leolè non temeva nessuno. Sì, la cavalla è normale, scende di categoria, scende notte notte, c'era il peso per poter vincere, la cavalla stava in ordine, ringrazio Gabriele che è un grosso allievo che sta diventando, che cresce e monta benissimo. Quindi, protagonista assoluto oggi, il team Alca Torre di Canicarau, con Sebastiano Cannavo e Mariolino Esposito, che sono stati i protagonisti appunto della prova principale della condizionata del premio Nortenbride, trezza prova del Palinzesto, dove Laguna Drive, dopo il posto d'onore dietro Raios De Sol, meritava e ha trovato un successo. Celtimar poi si rende protagonista, quindi compagno di scuderia di Laguna Drive, si rende protagonista di un eccezionale recupero sui metri conclusivi per via esterne e toglie il posto d'onore a Killa Smith-Yuken, che deve accontentarsi della terza moneta. Ispiratissimo, dicevo, Mariolino Esposito, che regala una tripletta alla scuderia all'alcatore di Canicarau, con il successo d'apertura di Alca Renesm e di Alp Duets, nel reclamare invece di quarta corsa del Palinzesto. Sotto clu del convegno, a chiusura proprio col premio Donorazio, con Lea Reoleole, che torna al successo, con Gabriele Gannarella, si impone su Sicilian Legend e su Grey Aron. L'appuntamento con il Galoppo Siracusano è rimandato adesso al 26 dicembre con in programma il Memorial Gaetano. Franci Canava, arrivederci.